I leoni nelle facciate delle chiese pistoiesi Davanti agli accessi delle chiese romaniche pistoiesi di Sant'Andrea, San Giovanni Forcivitas, San Bartolomeo in Pantano e San Biagino, e più precisamente sui lunotti, sono presenti rappresentazioni di leoni nell'atto di divorare mostri o animali feroci o, all'opposto, esseri umani. Per la precisione il leone posto a destra è nell'atto di divorare mostri o animali feroci mentre quello di sinistra è rappresentato nell'atto di divorare esseri umani. Come è noto nel pensiero medioevale la destra rappresenta il bene, il giusto mentre la sinistra il male. Tenuto conto di questo, e avendo un minimo di competenze bibliche, è facile comprendere chi rappresentano i due leoni. Il leone di sinistra nell'atto di soggiacere e divorare un essere umano rappresenta Satana, al capitolo 5, versetto 8 della prima lettera di San Pietro, infatti, si può leggere. Siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Il leone di destra, al contrario, rappresenta il Cristo nell'atto di sottomettere e distruggere il peccato, il demonio e il male, sotto forma di mostri o animali feroci. Infatti nel capitolo 5, versetto 5 dell'Apocalisse si legge, non piangere più, ha vinto il leone della tribù di Giuda, il germoglio di Davide, e aprirà il libro e i suoi sette sigilli.